Buongiorno, la ringrazio per la parola, saluto tutti gli eminenti ospiti, ringrazio l'invito di Valerio De Molli per un breve aggiornamento sulla questione che riguarda l'Afghanistan e in questo momento mi trovo a Doha e fa parte di una delle tappe del viaggio che stiamo portando avanti con il Ministero degli Esteri per affrontare i due temi della questione dei rifugiati e degli sfollati afghani e della sicurezza regionale. Poche parole, poi avrete il vostro dibattito e lascio ovviamente e riconsegno a lei il podio e la parola. Ciò che stiamo cercando di fare come governo in queste ore è collaborare con i paesi confinanti all'Afghanistan sul rischio terrorismo e sul sostegno agli sfollati che stanno riempendo i campi profughi in Pakistan ad esempio, ma anche in Iran e che vedono rotte migratorie anche verso i paesi del nord, quindi Uzbekistan e Tajikistan dove sono stato ieri. Abbiamo costruito con questi ultimi due paesi insieme, abbiamo la volontà di costruire una maggiore collaborazione tra le nostre intelligence per evitare che nei flussi di rifugiati e di sfollati ci possano essere minacce terroristiche, quindi persone riconducibili a cellule terroristiche. Sono qui a Doha invece oggi perché più tardi incontrerò Lemiro del Qatar e poi il Ministro degli Esteri. La nostra intenzione è di ricollocare l'ambasciata che avevamo a Kabul qui a Doha insieme ai nostri alleati, in quanto questo paese pur ovviamente non essendo confinante all'Afghanistan è stato al centro dei colloqui di Doha degli ultimi anni ed è stato fondamentale per il colloquio degli americani in particolare con le parti afghane. domani sarò in Pakistan dove visiterò il campo profughi al confine con l'Afghanistan e lì operano come ho fatto ieri in Tajikistan le agenzie delle Nazioni Unite, in particolare l'UNHCR sotto l'alto commissario che è un italiano ben conosciuto che è Filippo Grandi. Il nostro obiettivo è prima di tutto aiutare questi paesi a gestire i flussi migratori. C'è un grande dibattito in Italia sui corridoi umanitari, io ricordo sempre a tutti che il corridoio umanitario inteso come evacuazione di civili afghani dall'Afghanistan verso l'Italia o verso l'Europa sul piano bilaterale non credo sia praticabile, non possiamo immaginare di dare le liste di coloro che vogliamo evacuare ai talebani. Questo creerebbe delle liste di proscrizione o peggio ancora delle kill list, quindi il nostro lavoro che possiamo fare anche nell'assistere coloro che vogliono lasciare il paese è collaborare con paesi come il Pakistan, il Tajikistan, l'Uzbekistan ed altri. Il Qatar è diventato, come dicevo, il centro nevralgico delle relazioni diplomatiche rispetto a questo nuovo governo afghano che deve nascere, pochi giorni fa in Slovenia abbiamo tenuto il Consiglio europeo dei ministri degli affari esteri nel quale abbiamo stabilito delle condizioni fondamentali che ci aspettiamo si realizzino in Afghanistan attraverso la pressione della comunità internazionale. Come sapete l'Italia sta lavorando ad un G20 straordinario sotto la leadership del Presidente del Consiglio Draghi, è un formato inclusivo che consente di tenere al tavolo i principali attori geopolitici e anche di coordinarci su quelle che sono le prossime azioni da fare sull'Afghanistan. È ovvio che la prima preoccupazione va al fatto che l'Afghanistan possa tornare ad essere una comfort zone delle cellule terroristiche ed è per questo che nelle condizioni c'è sicuramente la lotta al terrorismo che ci aspettiamo dalle autorità afghane, ci aspettiamo il rispetto dei diritti umani come comunità internazionale, in particolare delle donne, ci aspettiamo il libero accesso delle agenzie come l'UNHCR ma anche delle ONG nel territorio afghano per l'assistenza alla popolazione, ci aspettiamo che sia garantito un passaggio sicuro agli afghani che vogliono lasciare il paese. Tutto questo è nelle condizioni che pone la comunità internazionale per evitare che l'Afghanistan diventi uno stato fallito. Il governo inclusivo che i talebani dicono di voler fare ma che tarda a nascere sarà un altro punto, come ho detto ieri questi non sono requisiti per il riconoscimento del nuovo governo afghano, è improbabile che vi sia un riconoscimento del governo afghano, sicuramente c'è una strategia coordinata della comunità internazionale che quando usiamo il G20 ci permette di tenere al tavolo Cina e Russia e quindi ci consente anche di evitare corse in avanti da parte di attori geopolitici così importanti. Su questo credo che nei prossimi giorni, dopo che avremo aperto di nuovo l'ambasciata che avevamo a Kabul qui in Qatar, dopo il finanziamento di progetti umanitari, l'Italia nell'ultimo Consiglio dei Ministri ha convertito i 120 milioni di Euro che utilizzava per la formazione delle forze militari di sicurezza afghane, li abbiamo convertiti in progetti di assistenza umanitaria e dopo che avremo avviato la collaborazione con paesi come il Pakistan, ad esempio per la gestione dei rifugiati nei campi profughi, potremmo quindi avviare quella che è la cosiddetta fase 2, che ruota intorno ad un piano italiano per il popolo afghano. Il nostro piano ha già mosso i primi passi attraverso una riunione interministeriale che c'è stata nella settimana scorsa, una riunione che vede coordinati ministeri, comuni, regioni e società civile, quindi ONG e associazioni della società civile a vario titolo. Stiamo cercando di fare sistema per gestire una fase che è del tutto diversa da quella che si è conclusa e posso dire in conclusione, e vi lascio la parola, che sono molto orgoglioso, dobbiamo essere tutti molto orgogliosi delle nostre donne e uomini della difesa e del corpo diplomatico e dell'intelligence che in questi giorni hanno lavorato all'evacuazione di oltre 5 mila civili afghani e tutti gli italiani che volevano andare via dall'Afghanistan, facendo sì che l'Italia potesse diventare il primo paese dell'Unione Europea per numeri di afghani evacuati. A questo si aggiunge, a cui voglio mandare un grande saluto, che in Afghanistan restano oltre 30 italiani che hanno scelto di restare lì per lavorare con le organizzazioni non governative e le agenzie delle Nazioni Unite e continuano ogni giorno a lavorare per salvare vite e tutelare la popolazione civile per quanto riguarda i diritti umani. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro e un saluto a tutti i relatori.